Rabbia e rassegnazione per un territorio che viene spogliato di un importante presidio di giustizia e di legalità. I sindaci puntano il dito anche verso tutte quelle istituzioni che in questi giorni di protesta e tensioni non hanno manifestato interesse e solidarietà verso il territorio e le comunità che lo popolano. Chiamato in causa tutto il Consiglio Nazionale Forense, evidentemente lontano dalle esigenze del territorio. Mi sarebbe piaciuto che insieme ai sindaci ci fossero tutti gli avvocati e ci fossero molti più cittadini. Io ho la sensazione che la rassegnazione governi ormai questo territorio del quale tutti possono fare ciò che vogliono. E mi spiace che nel corso dei mesi che hanno preceduto questa decisione, che oggi ci vede ancora una volta combattere una battaglia di retroguardia, perché le decisioni sembrano già assunte, ma noi non ci esimiamo dal dover combattere una battaglia giusta, anche se non dovesse essere vinta. E mi spiace pensare che alle spalle non ci sia stato da parte dei magistrati, la magistratura non si è sentita in questa vicenda. nessuna segnalazione, nessuna indicazione del fatto che questo territorio di un presidio di legalità, questo territorio non patti, ma questo territorio in ebro di occidentali, ne avevano veramente bisogno. Oggi infatti siamo in pochi. L'avvocato Mancuso rivela anche un retrosena che, se confermato, avrebbe del clamoroso. Noi abbiamo dalla nostra una delle relazioni autorevolissime che vengono dalla direzione generale del Ministero, dal Presidente della Corte d'Appello, in cui si dice espressamente che va chiuso patti e va aperto il Tribunale di Sant'Agata. Se non andiamo in questa direzione non abbiamo concluso assolutamente niente, perché è a dieci minuti da Barcellona e dunque non ha significato, perché è lontano, anni luce da Termini Merese, altro presidio, e anni luce da Enna, dunque noi abbiamo uno spicchio di Sicilia senza presidi.